Sì, grazie Patrizia. Dunque dopo il successo di ieri sera a Nocera Superiore, grande successo anche qui a Nocera Inferiore per il Carnevale Nocerino. Migliaia e migliaia di persone scese in strada ad ammirare questo spettacolo che è stato possibile grazie all'Associazione del Carnevale Nocerino, all'amministrazione comunale. Ed è nato quest'anno anche questa bella collaborazione con San Marziano sul Sarno. Una piccola parentesi con un piccolo incidente di percorso perché c'è stata all'altezza del Banco di Napoli, tra via Roma e prolungamento Garibaldi, la caduta di qualche calcinaccio da una vecchia struttura. Fortunatamente non si è fatto male nessuno. Sono poi intervenuti sul posto anche il sindaco, l'assessore Fasanino. La zona è stata transedata e il Carnevale è continuato tranquillamente senza problemi. 10 i carri in sfilata, quello dei Pirati dei Caraibi con Uniti per Fosso Imperatore, poi quello del quartiere delle tradizioni del rione Piedimonte con Harry Potter, gli amici di Cicalesi con la casa di Carta Oriente Express, tema scelto dall'Associazione New Generation e poi Over the Rainbow, tema bellissimo scelto dal quartiere Sant'Anna di Fiano. E poi Vigili del Fuoco con l'Associazione Monte Pescovato al loro primo anno nel Carnevale Nocerino, Asterix e Obelix Missione Cleopatra con l'Associazione Laghetto e in sfilata anche tre carri bellissimi di San Marzano sul Sarno. La domenica pomeriggio che vedrà i carri in scena a San Marzano sul Sarno, martedì poi si replica qui a Nocera Inferiore perché ci sarà una nuova sfilata dei carri. Dunque un Carnevale che ha riscosso grande successo, davvero migliaia le persone in strada, non solo lungo prolungamento Caribaldi ma anche in piazza Diaz che non vi abbiamo potuto mostrare perché alcuni carri hanno sostato qui, altri invece erano appunto dinanzi Palazzo di Città. Complimenti allora ai componenti del Carnevale Nocerino che ogni anno intraprendono anche una nuova iniziativa. Oggi qui a Via Garibaldi ha anche la possibilità di scattare un selfie che è possibile poi visualizzare sulla pagina Facebook il Carnevale Nocerino. E noi ci rivediamo allora il prossimo anno per vivere nuovamente insieme in diretta il Carnevale e ricordo anche l'appuntamento in diretta di martedì con il Carnevale Sarnese.